Bob Missili! Bello sto matchup! Dai, facciamo vedere Ocelot che fa schifo di Bob Missili. Dai, 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 dai. Voglio far vedere la partita dove Ocelot fa schifo con Bob Missili. Ora ne metto quattro. Ora ne metto quattro. Portsus! Grazie, Pastic! Grazie per i tre mesi di Prime. Prime! Chifo. Attenzione, forse la vediamo, la partita con Bob che fa schifo. No. quanti colori vuoi pentacolor gigante a carte forti e zo probabilmente è gatti zo e abbiamo scoperto che Arnold Schwarzenegger a Gianni si vola mi sono shampoo senza ucciderlo i bomastri e ma il tuo permanente rosso dov'è eccolo il roco permanento dove hai attivato la mia carte trappola non vincevo di quello delinco di lui è la frata e il guidino picchia picchia let's fucking go zo solo una prison penso al posto di un ragamond un trago siamo siamo sei dati praticamente non stai don't stand so don't stand so close to me uuuh zahando è questo stand della quarta fortissimo dicio zahando my penis is my penis cause my penis is my penis my penis non faceva la silenza costanzo costumi si è vero dai devi rimuovere tutto aaaah perchè io devo rimuovere tutto venga aaaah ah gianni gatto da ciò appa martellata con la ciola si potrei 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 uuu carta interessante il party tra here we go party trash dopo si guardano yam e poi si 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 è proprio lui oh si è rotto paraido detto gatto aspetta 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 oppo passa ah vero si c'è da fare enchant ward oggi eeeh 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 sicuro si aaaah tutto noto per rimini si no i video per i baeve sono rills eeeh e vabbè si aspetta rillio eeeh 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 aaaaaah ma io no a me non piace non è più una questione mi piace è che se volete sapere le cose mi dovete seguire su instagram fine Ma lo spacchiamo? No No perché potrei Non me ne frega un cazzo Di spaccare sto comando Ora faccio un disastro Sì sì Gianni ci fa se stesso Ehi ciao C'ho i planes valche I planes valche Punto schiamativo social ragazzi Dovete assolutamente seguirmi su Instagram Ma no perché Dovete seguirmi su Instagram Perché io dico e faccio le cose lì Quindi se non mi seguite su Instagram Voi non sapete metà delle cose che faccio sul canale Vi ha detto viaggiatori planari Nessuno Detto Prince Walker Con l'Ocelot ce ne avevo tre Di Nixiris Questo mi assicura il removal Avrei fatto cinque danni sul cavo Potete anche vedere i cazzi miei in giro Sì quello sì Non sono uno che divide il profilo social da quello lavorativo Visto me fanno Questo è Poli E poi c'è Poli privato No io non ho un privato Io c'ho tutto lì Eh ma è sbagliato Perché ci sono degli sponsor Che potrebbero avere da ridire Sul fatto che te nelle storie Al mare con i tuoi amici dici palle Se uno sponsor ha da ridire Sul fatto che io al mare con gli amici dico palle Non è uno sponsor che voglio avere Quindi a posto Grazie Joe Weak Grazie mille Joe Weak Grazie Joe Weak Che con la sua sub per la prima volta Tier 1 Entra non solo nel Telegram Punto schiamativo Telegram Ma entra anche nei Cavalieri della Gleba Che supportano la partner plus Attenzione 189 È vicino Bella cannottiera Perché non mi ha visto il cazzo Attenzione No no Seriamente Tantissimi creator Hanno il profilo Dove fanno le cose di lavoro Content creators E il profilo privato Con le cose degli amici Perché hanno paura Di perdere gli sponsorini O di perdere i sub O di perdere i fancy Se si fanno vedere Come persone umane Che dicono e fanno cose in giro Non è il tipo di content creator Che voglio essere Grazie Piuttosto faccio meno soldi E sono felice così Guarda Non mi frega il cazzo Di essere Sponsorizzato da Spotoplez Che mi dà un miliardo Però non posso dire pene Perché i bambini Cresceranno E sapranno Che si dice cazzo Nella vita Non succede niente Se lo sentano Poi i bambini Su Instagram Non ci dovrebbero essere Uno Intanto Uno Uno I bambini su Instagram Non dovrebbero esserci Grazie Grazie Piro Per il Prime Grazie mille Piccolo pivone Usata possibile Sponsorizzazione Con Spotoplez Sentito che Magic Farà la Con l'Udinese Calcio Non credo proprio Avevo sentito Gliela Sverona Esatto Quindi il canale Il canale ha 47 mesi 48 48 48 giorni Come si permette 48 mesi è uno stagionato buono Sono 4 anni Sì Sono 4 anni No Sì 48 Perché il primo mese Non ero Non ero affiliato Quindi il secondo mese Sì Sono 4 anni Devo festeggiare E Sabbatemi con le tier 3 Sì È il comple canale Dei 4 anni Datemi I sub Non so come si festeggia Non mi sono mai piaciuto Cosa devo sai dare Niente Ho visto Un inquisition of Kozylek C'ha l'Urrus Mettiamo un Erzo Fine No Bolto è forte Torniamo Ragavan Hai visto il Mazzuorzov di Bina No Non No Non guardo i canali degli altri Un giorno non lo capito Quazelf ha cambiato Il Prime a tier 1 Grazie Questo sì Questo è veramente Un festeggiare il canale Piro non posso farli tutti di fila No 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 Dopo li faccio Grazie Kozylek Grazie Quazelf Questa è veramente La miglior cosa che potevi fare Per festeggiare Veramente Grazie Iaio E la madonna Oggi si vola Grazie Iaio 40 40 40 40 mesi Anche te cazzo Aspetta che te sei vecchio Nel canalo Tu e le tue braccione grosse Quasi quanto No scherzo Non penso Eh la madonna Aspetta Aspetta che lo targetto Te lo spacco comunque adesso Ma aspetta che te lo fulmino No Perché fanno le cazzate Chat Perché fanno Mi hai fatto risparmi anche un energy Boia Quazelf Veramente Cazzo è vero Te mi segui Te mi segui da quando ero tipo Sempre da Dave la sera Che suonava in quarantena Merda Io passo Non faccio niente Io ora provo a fare un dischargino Ok Non fa brainstorm Speravo Nel Dai faccio sta brainstorm Dai Fai brainstorm Fai brainstorm Dai Che vuoi fare brainstorm Dai la vuoi fare brainstorm Dai Stai brainstormando Dai Sdruma Dai Sdrumox Dai Vuoi fare Vuoi fare Sbrod Dai Dai Perché nessuno mi dice A cosa serve la milz Dai Brainsurgo Brainsurgo No Bragg Sono ottima carta Surgo Surgo Stormo Surgo Non surga No no Dopo lo faccio Ho detto Dai Finisco Mi slancio Idle Devo fare Sto bombaster Così finalmente Fa questa brainstorm Se no non gioco No 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 Vabbè dai Che c'ha la counter in mano Così finalmente la fa Siiii Dai Almeno abbiamo giocato Porto Grazie Quazel Grazie mille davvero Per i complimenti Serio ma neanche vado comunque di doppio missilis alla faccia della guida c'è bene uno incanterabile salvo doppio spell pierce impazzirei già ha sbagliato ah no è quello giusto goif salvo doppio spell pierce l'avevo in classe L pesco il niente il nulla il pene il pisello grazie ciacci del prime ho pescato il pene il penis chissà cosa penso i miei vicini e non mi sentono di queste cose il penis penis il penis Non gioca Ha deciso di basta Ha giocato Attenzione Hai messo il giocare No non lo danno Nel negozio Ce l'ho solo io Me l'ho fatto Wizards La vita di True Hero No sono True Hero Sono una sirena Può sembrare strano Sono una sirena Lo countera Quando vuoi Veramente Eh lo so Gio Io in quanto Chi ho un pesta Ma Dai andiamo alla prossima Outvaluato A merda Ora sappiamo che Surgo È un'ottima Mossa Ragavan Molto elevata mia Bombarda Non serve a niente Ciao Io sono un surgo Faccio Degli Sperimenti Sopra Il mio corpo Soprattutto Tutto i menti Dai Lurkers Uscite la lurking Della chat Per scrivere Vaggio Non so che parola sia Però mi piaceva Evaggio Che poi non erano Evaggio Evaggio Cioè è un suono Grazie Gimli Grazie Gimli Per i sette mesi Di Cavaliere Della Gleba Cavaliere Della Gleba Cavaliere Della Gleba È un Sì È un Suono È un Emissione Credo si debba Scrivere Con la Shwa Bravo Lore Te hai smesso di lurcare Ora sei un qualcuno Incredibile Faccio Albeito Il Counter Hunter Lui Un V Pesh Vai Fai Sti Archetti Un Fulvio Ha comito il palazzo Le siamo tutti qui a guardarci la live Spero tutto bene O adesso ha i superpoteri Che mi sono ricordato Gli fa una sega la pioggia all'uomo ragno Lurchers Usciti dall'urking Per scrivere L'uomo ragno È vero lurcher È la ragazza che sta leggendo questo messaggio Immaginate In questo Environment Lore Scrivi Environment No lo devo far subito Fuck Vabbè Devo ricordarmi sempre di farlo in risposta a questa Non avevo contato di poter farlo immediatamente Piccolo errore Sono le sub plus Sono le sub tier 1, 2, 3 Senza prime Senza gift Stefano Tipo quella dovresti fare te in quanto amico mio Environment Esatto Eh va bene Lo stesso Devo fare ora no Sì sì Sempre viva L'intera comunità Leggbd Perché noi siamo Eli Ragazzi Questa è una community Eli Odiamo tutti alla stessa maniera Uh Quanto vuoi scartare Per Fuck Fuck fa prima che canta però eccolo stefanicchie anche lui è il cavaliere della gleba ragazzi io lo sapevo che era un vero cavaliere della gleba fatto sei mesi così è in termini entro il quale diventare parte del top scama way ciao boia sei un fenomeno direbbe strongest in the universe Paul Phoenix si sa che no 8 devo bere vuole scartare tre carte fallo madonna stefano no questo è veramente pigrizia inutile farlo dal telefono ma bastava dal chat fare punto esclamativo sub e ti apriva il sito per non farlo vabbè ops è andata così niente vabbè si è scartato la mano comunque scusa posso pescare una carta di magic tipo flaghe tipo terra beh esatto qua zelf ora non ha senso ora mi preme molto di più fare la parte del plus bello sto lurrus sul niente non ci piace sali lì vai al guido vai al guido madonna impestata tutto ciò che è vergognoso cosa ti cambia tier 1 2 3 i punti partono nel plus sono 1 2 e 6 tier 1 è un punto tier 2 sono 2 tier 3 sono 6 i punti partono nel plus ho fatto l'illigrat no no il valore valgano 1 2 e 6 e tier 1 2 e 3 non ce la faccio più eh esatto io sto con no no 193 sono i punti sono comprese anche le tier 3 e le tier 2 che già ho non sono il numero di sub sono i punti come 557 totali sono i punti dai quindi non posso procurare il tuo abbonamento certo che puoi sì sì vai sul menu dei sub e fai il livello superiore spingiti spingiti ben oltre c'è proprio la spingiti oltre sì sì punto esclamativo sub stefano dio madonna c'è il comando per fare tutto da telefono te l'hanno fatto anche prima prima che tu spendessi dei soldi inutili devo fare tutto da telefono No Stefano Non posso farlo io Ora se io pesco un'altra terra Concedo Non ci provo nemmeno A fare un altro turno Ovviamente fastidiosa Stavola No non fate sub gift Non servono a niente Se dovete fare sub gift Piuttosto fate la tier 2 Se io pesco terra Disinstallo No non disinstallo Scherzo Una figurina Sì vabbè Ma tanto sicuramente Lui c'ha spell snare Non sta usando le mobile Veramente Merchel Vabbè non me l'ha rotto Ciao Tavoavo Che good game Porca troia Va bene Duterrine meno Oh è il GP al faro Il più forte del mondo Yes Bellissimo il pet Bellissimo Che過 la Che過 la Che過 la Makes sense Oltre il mirror è fortissimo Bombarda Gatto bombarda Oltre il mirror è fuori di testa Il gatto bombarda Se ne frega se gli do guida Oh Vizio Sì Sì Mirror finalmente Aspetta se abbassa un hob Indeciso Perché faccio pride Tu pensi che Gianni sia da ban? In historic forse sì In timeless no è gestibile Il problema è il numero di partite Che c'ha Gianni Abbastanza È ovunque A guida Più guida di Gianni Non ci voglio credere Stefano A nulla L'ho fatto i refound Perché non ha attaccato? Stefano non importa Non ti preoccupare Vabbè si va alla prossima No Non ci si va alla prossima Suca Perché non ha fatto 28 danni Perché non potevo parare Sennò gli flippavo a Gianni Tio madonna Next Ok Volevo fare il sbora Ok Ma infatti non Eh wiki Che cazzo ho detto io Non ci sono orchetti In historic Il problema di Ajani Questo mazzo È completamente Unchecked Perché non ci sono Gli orchetti In historic Quindi Stiamo vivendo Un meta Che è assolutamente Completamente bilanciato In timeless Boros energy Infatti Non è un problema Ma in historic Lo è Direi che in historic Non è un problema È essere Stupidi Ok Che non è attaccato Dio Cristo Che fastidio Mi fanno Gli scarzi Tolgo subito Ti giuro Gli scarzi O il mazzo Bono Sono una delle cose Peggiori Che ti può capitare A livello Dei nervi E quelli Già Hanno Di merda Ma il mazzo È forte E quindi Va da sé Questo è un problema Credo che Scoppierà immediatamente To the hunt To the hunt Minchia Si è abraso Un gatto Porca puttana Non è il best Until I find To me Potremmo qualche blood moon Di side Si potrebbe Mettere To me Eh cane Doggo Into the frame Into the frame Into the frame Purtroppo Io devo far fare Purtroppo Purtroppo Grazie a tutti Bene Ma porco dio Ma guarda veramente Vabbè Ci sono i complimenti Fenomeno Posso Terra Ma figurati se non può fare un turno Nel turno in cui dio boy Sarà il turno in cui non doveva fare un cazzo Grazie a tutti Succa 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 Tella blood money top deck Succare Godo Ah non ho dato la via Vabbè Primo turno Perché ricordi Nella vita non è importante se piseli o palle Nella vita è importante se sia piseli che palle Sono pesantemente, cupiosamente, altavicamente, intrattenentemente, pieni di sbore Perché nel seme c'è la vita Nella vita c'è la verità Grazie pistraio Grazie Si bolla a piombino Abbastanza Della verità Sì No non ci sono Exile Non ci sono Bob Dami missili Dove è Bob Missili Lo faccio adesso Sì Spalo C'è Unctus Ma non è la stessa cosa Spazner No Io mi salvo La guida da Bolt Cosa che doveva fare anche il Boros di prima Complimenti Complimenti Ok Ok Può farmi quattro danni su guida Su gloria Ma ora arriva Mucca Rapido o sbaglio? Oddio c'è Invert Polarity Vero Testa vinta Provo Ragavan Vediamo Nazgul Vediamo Probabilmente provo il play-in Per il Limited Ok Ok no Ok no Ti provo dai Se c'è invert polarity cg Mi son cagato il cazzo Te lo giuro Mi son cagato addosso Sono veramente cagato addosso Ah Ah Merda Eh però lui si è tolto il rosso Aspettiamo Che uno bianco ce l'ho Posso giocare cose Che uno sta trovando la montagna Ragazzi Curiosi Mmm Saldri Saldri Stunnato da un arbingo E questo è l'otto moon Eh Te lo fai Dei manhunter E so fermo I'd rather But I'm not so easy Use your words Allora Si è montato un mese fa Ma Allora Capire L'energia che cazzo ci fa lui Scusate Vabbè Gli annullo Quattro carte Eh basta Quasi Prende le stesse carte Quello perché non ha il fecciato per montagna Scusate Come Dunque storico Sformato di arena Mi sa che non capisci un cazzo No, ovviamente è Timeless in questo momento In Timeless si può giocare veramente un sacco di cose Timeless è Standard Sono i migliori Explorer è proprio brutto Ragazzi È proprio brutto Pioneer per me in generale In un formato brutto In una via di mezzo e non sa di niente Tanto Standard è profondissimo ormai Un po' per level alto Posso spingere? Nike grazie per i 18 di Prime Esatto Spalo È una via di mezzo stupida Che ti dà la sensazione di giocare Uno Standard Plus O un Modern meno Che lo sia il formato proprio che mi piace meno in assoluto Pioneer Già loro due scappano eh Aizet Anche se ora fa Arbingo Prima attacco perché se c'è Inverte Polaris Ti la piglia al Q Arbingo Arbingo E nel culo te lo spingo Ok raga Confermato Martedì Martedì c'è la review E poi Doppia live Tekken la sera Con Daniel Mado Ragazzi Già Martedì sera Coaching con Daniel Mado Succede È successo E chi è? Il miglior Jin del mondo No c'è C'è Bina Martedì Siete te Bina Martedì pomeriggio Parla italiano È italiano Daniel Mado È italiano Il miglior Jin del mondo È italiano Uno dei migliori giocatori del mondo In generale Di Tekken Ah Bina e Maffi In versione estiva Ok sì Madonna Martedì È un grande ritorno Dalle live A parte ritorno Il 22 sera Io dalle live Cioè le faccio live Il lunedì sera Sarà molto interessante Vedere Come lo facciamo Io non so niente Di coaching Di Tekken Che Con Ernie Non ho fatto coaching Ho fatto qualche live Insieme Lui ha detto proprio Mi ha preparato un percorso Cago addosso Mi tratterà malissimo Stasera andate dal pirrone Mi raccomando Babidi Grazie Dark Grazie Dark Grazie Dark Per i sei mesi Che fai il pirro Wilderring Canale pirrone Piccia sul cazzo di Nick Porco Dio Canale pirrone Qual è il canale Qual è il canale Di una persona Che è in chat Con il nickname A vista Sto giocando Timeless Delmo Canale Delmo Lo so che siete acustici Ragazzi Per questo vi voglio bene Siete artistici Benvenuto Goodwing E io non ho La palude Amen A meno I piselli Gli bastardi A meno Mi cago addosso Giova a qualsiasi cosa Se c'è polari Si è perso Giova a qualsiasi cosa Quella che entra per seconda Arasti Se c'hai sia Arbinger Che Bloodmoon La seconda Sovrascrive l'effetto Ci sto Attacco Stavo a dire Sei quel Rusty Cosa ha fatto Un cantante Famoso Avete visti Etna Comics Mi ha dato i bacetti Vediamo Arriba Arriba Pensavo Pensavo il Vertilpolism Arriba No 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 Flippa immediatamente da minchia Mi devo assolutamente impedirgli di fare qualsiasi cosa ancora da mia Carica energia, ne fa un altro Doppio discharge, immagino No Curioso Ok, ci sta Però ora è finito Esatto Uh, dura eh, però bella Bella cazzo sta partita, mi piaciuta GG, GG Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti